13, 14, 15 consiglieri su 23, il numero regalcio si può iniziare, prego Presidente. Grazie Secretario. Presenti 15, assenti 8, questo mi risulta l'appello. Sì, se magari Lisa potete dare un supporto, magari che conoscete. Sì, sì, anche a me risultano 15. Bene, allora, come primo punto, la nomina degli scrutatori, io proporrei Valentina Calbi e Chiara Fabri. Scusate, non so se mi sentite, ma devono essere eri. Ah, ecco, avevo questo dubbio, infatti. Alberto Ciampelli. Sì, Alberto Ciampelli. Ok, poi lettura e approvazione del verbale della seduta precedente, come da norma, insomma, non essendo pervenute osservazioni, viene dato per approvato. Tra le comunicazioni del Presidente al punto numero 3, io non ho comunicazioni da fare, se non che gli uffici stanno lavorando per provvedere all'approvazione del bilancio entro il 30 di dicembre, quindi, insomma, poi magari ci terremo in aggiornamento per fissare il prossimo Consiglio, perché purtroppo, come diceva il Dottor Cocchiarella, abbiamo tante sovrapposizioni, non solo noi, ma anche proprio con il Segretario, quindi la gestione è abbastanza complessa. Infatti stasera c'è la concomitanza con il Consiglio di Castel San Niccolò, ma non era possibile purtroppo fare diversamente per le varie esigenze dei Consigli, e in particolare appunto considerato che ci avvaliamo comunque di un segretario che ha anche lui comunque diverse situazioni da gestire. Abbiamo al quarto punto la ratifica della delibera di giunta del 12 ottobre 2021, una ratifica di una delibera di giunta con le variazioni. Non so se vuole illustrarla l'assessore al bilancio, poi abbiamo anche eventualmente il supporto del Dottor Micheli. Grazie. Allora, praticamente con questo punto andiamo a ratificare quelle che erano le variazioni di bilancio fatte in giunta il 12 ottobre, e quindi devono essere ratificate in questo Consiglio Comunale. Io, avete ricevuto sicuramente tutti la relativa illustrazione dall'Ufficio Ragioneria, vado a illustrare quelle che sono un po' quelle che erano le più importanti. Allora, innanzitutto c'è l'applicazione di un avanzo vincolato di 2790 euro, che sono relativi al fondo Covid-19, non utilizzato nell'anno 2020, accantonato in un apposito fondo vincolato per l'acquisto di IP, maggiori spese di sanificazione obbligatorie. Questa era la prima. Poi, per quanto riguarda gli affari generali e finanziari, c'è lo stanziamento delle risorse relativo al contributo regionale per l'incentivazione della gestione associata dall'anno 2021, viene attribuito alla fine dell'anno e sarà utilizzato nel bilancio 2022. Queste sono in realtà poche centinaia d'euro, se non mi sbaglio. Le ritrovo. Sono 623 euro per la precisione. Poi, per quanto riguarda il servizio cultura, abbiamo l'iscrizione a bilancio di contributi per le realizzazioni delle manifestazioni dell'ecomuseo Stand Up for Africa, sono 2.000 euro dal parco e 1.500 euro dal comune di Prato Vecchio Stia e 2.000 euro da Regione Toscana per la manifestazione toscana e contemporanea. Poi, la parte un po' più corposa era quella relativa ai servizi sociali, dove avevamo lo stanziamento di 23.000 euro da Regione Toscana per il piano di investimenti in RSA, poi lo stanziamento di 14.000 euro sempre da Regione Toscana per il PES, anno ed educativo 21-22, poi altri 27.000 euro sempre da AUL per il Fondo Riapertura Centro di Urli e poi abbiamo i 91.000 euro che i comuni avevano ricevuto per il Fondo Solidarità Alimentare che veniva gestito dall'Unione dei Comuni, per quasi tutti i comuni dell'Unione, e poi 22.000 euro relativi al capitolo aree interne era un adeguamento per coprire l'incarico di revisore del progetto. Poi, altra variazione invece di Milano c'è fatta il servizio pulizia municipale, è un aumento delle previsioni di entrata dei proventi da sanzioni del codice della strada per euro di 10.000. Poi passiamo al settore foreste, dove abbiamo anche qui un aumento di previsione di entrata di 170.000 euro rispetto a quello previsto, e poi uno stanziamento di 95.000 euro da parte del parco delle foreste nazionali per il bando clima relativa all'anno 2020. Poi c'è un'altra ancora abbastanza corposa, che è quella relativa all'IVA sui rifiuti, quindi un'IVA non commerciale, una maggiore entrata di 50.000 euro, a destinare ovviamente al budget dei rifiuti, quindi possibilmente in abbattimento delle vuote di ogni comune. Queste erano le variazioni principali. Sono domande? Sì, scusami, io mi sono perso la penultima entrata, quella prima dei rifiuti. Il settore foreste, praticamente rispetto alle previsioni di inizio anno è stata variata la previsione, è stato aumentato di 170.000 euro la previsione di entrata, e più ci sono 95.000 euro che il parco ci dà per il bando clima, è un bando a cui abbiamo partecipato, quindi faremo dei lavori con questi soldi che ci vengono dati dal Ministero tramite il parco nazionale. Perfetto, grazie. Ok, se non ci sono osservazioni procediamo in accordo con il segretario con una votazione chiedendo se ci sono voti contrari, se ci sono voti astenuti. Ci sono due riguardi, però scusa Presidente, che non si vedono, c'è Manuele Ceccherini e Paolo, quindi non so, cioè se il voto viene espresso non a livello vocale ma per l'usata di mano bisogna che sia, siamo visibili tutti. Io mi lassegno. Ora c'è un Paolo, non so che sia, che non si vede. Sì. Paolo Favallucci. Ovviamente bisogna che si veda, altrimenti non si può proclamare. No, altrimenti possiamo fare anche la votazione nominale, segretario, eh. Come volete. Forse è meglio. Se la fai tu, se la fai tu, Sì, allora vi chiamo, sì, allora vi chiamo, facciamola per l'uomo. Eh, c'ho, però quindi vi devo chiamare tutti quanti, quindi nominalmente. Allora quindi, rispondete quindi favorevoli, contrario a queste notizie. Quindi, cioè Riccardo? Favorevoli. Barolo Claudio? Favorevole. Calvi Valentina? Favorevole. Cavallucci Paolo? Astenuto. Astenuto. Allora un attimo. Astenuto. E Ceccherini Emanuele? Favorevoli. Chiscia Vessia? Favorevoli. Ciampelli Alberto? Astenuto. Astenuto. Poi abbiamo Luce Danora? Favorevole. Fabri Chiara? Favorevole. Federico Giovanni? Favorevole. Laurita Paolo? Astenuto. Favorevole. Mucci Tiziana? Favorevole. Favorevole. Perfichini Roberto? Favorevole. Cicci Lorenzo? Favorevole. Terlini Giampaolo? Favorevole. Ho chiamato tutti? C'è qualcuno che ha stato chiamato? Quindi allora sono favorevoli. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, ok, dieci, undici, dodici voti favorevoli. Quindi favorevoli, dodici, e astenuti uno, due, tre, astenuti, uno, due, e tre astenuti, sì. Allora scusa, segretario, siccome ti dicevo all'inizio, noi veniamo dal consiglio di Talla, ovviamente qui non è come a Talla dove lo diamo il da verbale, per approvato, no, scusami, è perché prima non ho fatto votare il verbale, invece qui va votato, non come facciamo noi che lo diamo per approvato se non ci sono osservazioni scritte. Chiedo scusa, ma mi sono... Allora, quindi facciamo una votazione anche sul verbale. Sì, chiedo scusa, ma... Sì, sì, ma io non essendo il primo consiglio che faccio, ovviamente lo stato del regolamento che fa. No, io non è il primo, però scusate, ma ogni tanto faccio un po' di confusione. Quindi allora, un attimo, segno, allora, la ratifica, trovando a Zena, quindi con 12 voti favorevoli e 3 voti di astenzione, favorevoli 12 astenuti, 3. Procedo allora a fare l'afferlo per la preazione della testa, sì, come prima, Acciai, Riccardo. Senti. Guardate, favorevoli. Favorevole, inseguidiamo. Barolo, Claudio. Favorevole. Calvi, Valentina. Favorevole. Cavallucci, Paolo. Favorevole. Ceccherine Emanuele. Favorevole. Kisci, Alessia. Favorevole. Ciampelio e Alberto. Favorevole. Duce L'Onora, favorevole, Fabri Chiara, favorevole, Federico Giovanni, favorevole, Laurita Paolo, favorevole, Mucci Tiziana, favorevole, Perchini Roberto, favorevole, Ricci Lorenzo, favorevole, Serini Gianpaolo, favorevole, bene quindi approvata l'unanimità, richiamato tutti, sì? I verbali sono approvati l'unanimità, prego Presidente. Bene, grazie e scusate questa digressione. Adesso abbiamo le variazioni al bilancio d'esercizio 2021-2023. Scusa, sulla ratifica l'immediata eseguibilità, per favore. Quando le votazioni sono separate, fatemelo presente perché altrimenti si rischia di... Va bene, allora segretario mettiamo votazione. Per la ratifica. Sulla ratifica, la ratifica del bilancio, sì. Allora c'è Riccato? Favorevole. Barolo Claudio? Favorevole. Calvi Valentina? Favorevole. Cavalucci Paolo? Favorevole. Ceccherina Emanuele? Favorevole. Fiscia Alessia? Favorevole. Ciampelli Alberto? Favorevole. Faccio presente? Quindi favorevole, stiamo votando l'immediata eseguibilità della delibera di ratifica per l'evasione del bilancio. Chiarissimo. Favorevole Ciampelli Alberto? Bene. Dulce Donora? Favorevole. Fabri Chiara? Favorevole. Federico Giovanni? Favorevole. Laurita Paolo? Favorevole. Mucci Tiziana? Favorevole. Pertichini Roberto? Favorevole. Tricci Lorenzo? Favorevole. Tellini Giampaolo? Favorevole. Bene, quindi l'immediata eseguibilità della ratifica della rotazione è approvata con una limitata, come si dice. Grazie. Grazie, sì. Al punto numero 5 ci sono le variazioni finali, diciamo così, di questo anno. Anche qui le chiederei all'assessore competente di illustrarle. Grazie. Allora, in questo caso le variazioni sono quelle effettive che portiamo al consiglio di oggi e ovviamente servono per adeguare gli stanziamenti alle effettive necessità dell'ente, dove ovviamente è possibile appunto reperire risorse e modificare gli importi dei vari capitoli per le necessità effettive dell'ente. Anche qui è stata inviata la nota esplicativa, dove tutte le variazioni sono state puntualmente riportate ed esplicitate e come prima vado a elencare quelle che sono le più importanti e le più significative. Allora, innanzitutto c'è stata un'applicazione avanzo vincolato per 36.847,87 euro che è stato così suddiviso. 31.357,16 avanzo di amministrazione vincolato applicato in parte corrente per 423 euro relativi al fondo Covid e a spese sostenute per le procedure concorsuali che, come sapete, devono essere fatte in determinati modi, con le sanificazioni e altre cose che comportano queste spese. Poi, 15.017 sono relative alla gestione delle foreste per il pagamento di canoni sul patrimonio regionale. Praticamente qui riguarda il fabbricato di Casanova, in Maria Prataglia, che è stato passato dalla regione toscana al nostro ente e questi 15.000 euro che sono praticamente l'ultimo canone che c'era da pagare, ovviamente perché doveva essere la partita dei canoni, doveva essere pareggiata prima del passaggio del fabbricato e c'erano questi 15.017 euro da gestire, quindi sono stati messi a disposizione. Poi ci sono 15.917 e 16 che sono invece relative alla gestione dei servizi educativi e queste sono, è stato utilizzato in questo caso proprio per evitare aumenti delle quote dei comuni relativamente al servizio educativo. Poi, 5.490 euro e 71, avanzo di amministrazione vinculato, è stato applicato in conto capitale per istituzione di somme erogate in eccesso dalla regione toscana. Praticamente qui un contributo per un lavoro è stato liquidato in maggiore importo rispetto alla nostra rendicontazione, quindi abbiamo dovuto ripareggiare questo conto, sono 5.490 e 71. Poi, affari generali e finanziari, stanziamento in entrata per proventi di diritti di segreteria di 15.690 che verranno utilizzati per il rogito di contratti, oneri e riflessi, praticamente qui si tratta di fare alcuni contratti e rogitare alcuni contratti come quello per l'RSA, quello di lo SPRAR, quello che ci sarà per la gara di servizi sociali, quindi abbiamo dovuto prevedere questi diritti di segreteria. Poi, a parte, ci sono vari stanziamenti relativi a capitoli che riguardano partite di giro, quindi depositi cauzionali e cose del genere, quindi vengono adeguate per il punto di vista di demovimenti. Nel servizio cultura c'è una riduzione in entrata da regione toscana di 3.059 euro per l'ecomuseo, per gli ecomuseo riconosciuti. Poi si passa al servizio sociale che prevede queste variazioni. Allora, innanzitutto c'è un assestamento delle entrate della regione per il PEZ 21-22 e per il POR FSE 2021 e il Fondo Sociale Regione. C'è una riduzione delle entrate degli utenti per i midi e per le compartecipazioni al servizio di assistenza domiciliare centri di ogni. Lo spostamento di entrate da comuni destinate a reintegrazione al reddito per l'utilizzo per i servizi educativi per permettere di non aumentare sempre il ruoto dei comuni, praticamente quello che dicevamo prima. Poi riduzione delle entrate della ASL di 45 mila euro per il fondo dei non auto, degli anziani sostanzialmente, non sono diciamo così Poi riduzione delle entrate dello stato sono 89 mila 171 euro per la Lab Ability and Sprar. Poi per il servizio di polizia municipale abbiamo anche in questo caso come la precedente variazione un aumento delle entrate dei proventi di sanzioni del codice della strada. Qui sono 30 mila euro in più. Come sempre queste qui vengono destinate in modo vincolato per attrezzature e diciamo sicurezza della strada e altre invece rispetto ai trasferimenti comuni. Quindi vanno in parte ai trasferimenti comuni e in parte sulla sicurezza della strada. Poi per quanto riguarda il settore foreste abbiamo anche in questo caso un altro aumento delle previsioni di entrata di 220 mila euro. C'è da far notare che rispetto alla variazione fatta precedentemente quella che veniva ratificata di 170 mila euro più questa di 220 mila euro però rimane un dato di entrate forestali inferiore di 150 mila rispetto al 2020. Quindi diciamo che la previsione negativa era stata sovrastimata invece diciamo si è abbastanza ridotta quella che era la previsione e rimane un incasso più o meno di un incasso inferiore di circa 150 mila euro rispetto al 2020. Poi una riduzione di entrate dal consorzio 2 Alto Valdanno per 44 mila e 36 euro per minore assegnazione di lavori rispetto a quello visto. E' l'aumento in entrata di preventi relativi al vincolo idrogeologico di 31 mila 553 euro. Queste sono le variazioni principali rispetto alla nota esplicativa che avete ricevuto. Se avete qualche richiesta di maggior disposizione. Centralmente c'è anche Simone Micheri collegato che può darvi delle indicazioni. Se è tutto ok? Sì, se non ci sono domande e osservazioni si può mettere in votazione e c'è l'immediata eseguibilità su questa delibera. Anche qui la votazione si è disgiunta, quindi è la doppia votazione si è separata. Va bene. C'è Riccardo? Favorevole. Barolo Claudio? Favorevole. Calvi Valentina? Favorevole. Cavallucci Paolo? Astenuto. Ciccherini Emanuele? Favorevole. Favorevole. Chi c'è Alessia? Favorevole. Favorevole. Ciampelli Alberto? Astenuto. Astenuto. Duce Vanora? Favorevole. Fabri Chiara? Favorevole. Federico Giovanni? Non sento Federico Giovanni. Non mi andava. Favorevole. Favorevole. Laurita Paolo? Astenuto. Astenuto. Mucci Tiziana? Favorevole. Vespichini Roberto? Favorevole. Ricci Lorenzo? Favorevole. Tedini Gianpaolo? Favorevole. Bene, adesso per le mie da reseguibilità. Acciae Riccardo? Favorevole. Valoro Claudio? Favorevole. Basetti Claudio è assente. Calvi Valentina? Favorevole. Capalucci Paolo? Favorevole. Ceccherini Emanuele? Favorevole. Chisci Alessia? Favorevole. Ciampelli Alberto? Favorevole. Ducce Lanora? Favorevole. Fabri Chiara? Favorevole. Federico Giovanni? Favorevole. Laurita Paolo? Favorevole. Mucci Tiziana? Favorevole. Pertichini Roberto? Favorevole. Ticci Lorenzo? Favorevole. Eterini Giampaolo? Favorevole. Bene, quindi abbiamo approvata la proposta con 12 voti favorevoli e 3 voti di astensione e con l'unanimità per dignità presidenziale. Sì, andando avanti abbiamo l'approvazione del DUP 2022-2024 che in realtà è stato approvato ormai a fine luglio 2021 in giunta, ma come sapete purtroppo i consigli nostri sono sempre molto direzionati durante l'anno, quindi andiamo all'approvazione in consiglio ad oggi. Ovviamente è un DUP che poi sarà modificato ed aggiornato con quello che sarà il quadro della proposta di bilancio del prossimo, insomma, per cui questo ovviamente è il documento di programmazione per il triennio 22-24. Sarà poi quindi di nuovo riportato in approvazione con tutte le aggiornamenti vari e quindi sarà più attendibile, diciamo così, la parte che andremo ad approvare, a portare in approvazione alla fine dell'anno. La sezione operativa del DUP è predisposta in base alle previsioni e agli obiettivi che sono fissate nella sezione strategica, che sono le due sezioni, diciamo così, in cui si divide il DUP. La sezione strategica, diciamo con il quadro normativo, indirizzi strategici, diciamo anche gli aspetti identificativi dell'ente e delle sue funzioni e poi appunto abbiamo questa parte operativa che è una, praticamente è una, diciamo, una conferma quasi integrale dei dati finanziari 22-23 che erano stati previsti nel DUP precedente 21-23. E la previsione dei dati finanziari del 24 sono praticamente il ribaltamento di quelli del 23. Quindi ecco, come vi dicevo, poi ci sarà quella che sarà una parte, diciamo, più sostanziale di aggiornamento nell'approvazione del DUP prossimo che andremo a fare contestualmente al bilancio. Non so se l'avete avuto modo, ecco, se Dottor Micheli vuole aggiungere qualcosa, diciamo, da un punto di vista più tecnico. Se avete avuto modo di vederlo, però ecco, come vi dicevo, poi un aggiornamento sostanziale sarà fatto nel prossimo, con l'approvazione del bilancio. Sì, sì, no, ok, ha detto Dottora Presidente e aggiungo solo che è stato corredato del parere favorevole dell'organo di revisione che è stato inviato a tutti i consiglieri nei primi giorni di agosto, mi sembra il 2 di agosto, e basta. Ok, quindi se ci sono domande o che, altrimenti si può procedere alla votazione. Sì, qui non c'è mai l'eseguibilità. No, ovviamente, perché sai quant'è che erai immediatamente esegibile da luglio. A luglio abbiamo fatto. Perfetto, è da luglio, da 30 a luglio, sì. Allora, quindi procediamo con l'appello. Acciai Riccardo? Favorevole. Barolo Claudio? Favorevole. Claudio Valentina? Favorevole. Cavallucci Paolo? Cavallucci, non l'ho sentito. Scusate, astenuto. Cavallucci Paolo, astenuto. Ceccherini Emanuele? Favorevole. Chiscio Messia? Favorevole. Giampelli Alberto? Astenuto. Astenuto. Duce La Nora? Favorevole. Fabri Chiara? Favorevole. Federico Giovanni? Favorevole. Laurita Paolo? Sostenuto. Sostenuto. Mucci Biziana? Favorevole. Questi Chini Roberto? Favorevole. Ricci Lorenzo? Ricci? Favorevole. 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 Favorevole e Fellini Giampaolo? Favorevole. Quindi dubbio approvato con 12 voti favorevoli e 3 voti di astensione. Prego, Presidente. Mi stavo mostrando la cimice che ho sul filo delle cucchie. Non si vede. Sono stata assaltata da una cimice. Allora, adesso abbiamo il rinnovo della convenzione con il Comune di Prato Vecchio e Stia per la gestione del servizio statistica. Su questo, ovviamente, chiediamo di procedere all'approvazione. È un servizio che fino ad oggi abbiamo in associato anche con, insomma, in convenzione anche con il Comune di Bibbiena, ma come condiviso in giunta stiamo approfondendo alcuni aspetti. la Regione ci ha ricontattato chiedendoci degli altri giorni per approfondire ulteriormente questa cosa, che è una questione che abbiamo affrontato anche in giunta, circa l'opportunità o meno di continuare a mantenere questa funzione in associato, anche con il Comune di Bibbiena, nell'ottica della strategia nazionale per le aree interne. Quindi su questo, intanto, procediamo con l'approvazione con il Comune di Prato Vecchio e Stia, che tra l'altro è tra i comuni, diciamo così, area strategico, nel senso come quei comuni portatori di punteggio per la strategia per le aree interne, e ci riserviamo, insomma, eventualmente, di procedere con l'eventuale approvazione nel Consiglio prossimo con il Comune di Bibbiena. Intanto procediamo con questa, in attesa di avere il parere della Regione sulla, diciamo così, la necessità o meno, se questa convenzione è determinante o meno per il proseguimento dell'attività della strategia per le aree interne anche sul territorio del Comune di Bibbiena. Tra l'altro su questo dobbiamo anche procedere, come condiviso con Simone, anche con la richiesta delle risorse sui rimborsi che sono dovuti dai comuni che svolgono in convenzione questa funzione. Scusa Eleonora, mi pare di capire che Bibbiena, quindi, non vorrebbe rinnovare? No, 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 allora, noi, ti ricordi, avevamo detto di fare questo approfondimento con la Regione, Bibbiena non è pervenuto, quindi non hanno contattato l'Unione su nessun fronte su questa cosa, e noi abbiamo mandato questo quesito, un quesito che è stato, diciamo, valutato dalla Regione, sono un po' di giorni, una decina di giorni che loro hanno questo quesito, e ci hanno chiesto qualche altro giorno per dirci definitivamente se questa convenzione, come si diceva in giunta, è determinante o meno perché anche il Comune di Bibbiena sia beneficiario e stia all'interno della strategia per le aree interne, perché vi ricordate dovevamo avere due funzioni che coprivano tutti i comuni dell'area, in questo caso erano statistica e protezione civile, perché dovevano essere delle funzioni ricomprese in un certo, per esempio non poteva essere il canile, dovevano essere alcuni tipi di funzioni, tra cui appunto la protezione civile e la statistica. La Regione ci ha chiesto ancora qualche giorno per dirci definitivamente se questa cosa, perché diciamo che non gli era mai posta nessuno, però anche rispetto a quello che ci eravamo detti, dato che comunque abbiamo da andare a rinnovare anche altre convenzioni, tra cui per esempio anche quella del canile entro la fine dell'anno, così insomma facciamo un ragionamento anche rispetto all'opportunità, cioè se si sta dentro la strategia per le aree interne ci si sta, ma si sta anche dentro un ragionamento un po' più ampio, quello che avevamo detto, protezione civile eccetera, insomma perché. Però la Regione purtroppo, notizia anche ultima proprio di oggi, che ci hanno chiesto qualche giorno in più, perché il settore dell'Angelita Luciani, insomma dovevano dialogare col settore degli affari istituzionali, quello dei finanziamenti europei, e quindi stiamo aspettando, in caso si va ad approvazione alla fine del mese, per il resto non siamo comunque stati interessati di circa rinnovo da parte del Comune di Bibbiena, è stato oggetto di nostro approfondimento, la lettera che poi avevamo concordato con la funzionaria del Comune di Ortignano l'abbiamo inviata intanto al Comune di Prato Vecchio, che ricordo è un Comune che è portatore di punteggio sulle aree interne, cosa che invece non è Bibbiena, che invece beneficia di alcuni interventi non innumerevoli, ma insomma poi alcune, ti penso all'infermeria di comunità, alcune cose ricadono anche sul Comune di Bibbiena, pur non essendo un Comune di quelli portatore di punteggio, come ad esempio può essere Talla, però poi di fatto Talla ricade all'interno dell'Unione dei Comuni, così come anche altri comuni che non sono portatori di punteggio e che quindi fanno parte dell'area strategica per le aree interne. Ma io non ho capito la questione, noi stiamo sentendo la regione per sapere se Bibbiena deve stare dentro, se no ci saltano le aree interne a tutti, saltano solo a Bibbiena? E' bravo, è questo il quid, è per capire se saltano solo a Bibbiena, a tutti non dovrebbero saltare. Ah no, io pensavo che si fosse, no no, io pensavo di essere stata, cioè nel senso che fosse chiaro quello che avevo detto, non è che mi volevo nascondere dietro a nulla. Prima si parlava di 50.000 euro dei rifiuti, dell'IVA dei rifiuti. Esatto, esatto, no no, scusa, non volevo, cioè nel senso, pensavo che fosse di essermi spiegata bene, però no, possiamo... No, che sia ben chiaro di noi, cioè, quindi... Ci sono dei benefici di stare dentro l'Unione con alcuni servizi. Non ci va a Bibbiena a sentire regione... Esattamente. ...se devono stare dentro la statistica o no, non noi. No, no, ma questo siamo perfettamente d'accordo. Io diciamo che era l'occasione questa per dire andiamo al tavolo con Bibbiena su diverse questioni, più questa, che come dire, secondo me, se così fosse, e cioè che la statistica, dato che le convenzioni le si fanno in due, quelle che poi scadono, per esempio la protezione civile dura 99 anni, non è che ci possiamo rimettere in mano, ma quelle che via via scadono, se può essere utile per migliorare il ragionamento anche su tutte le altre cose, perché se abbiamo dei benefici su dei fronti, bisogna insomma anche fare uno sforzo su altri e riconoscere anche lo sforzo e il lavoro fatto dagli altri, perché poi, insomma, si rende conto, si chiede conto di quello che viene fatto nell'Unione, però è anche giusto che si chiede conto fino a un certo punto, bisogna anche fare qualcosa, cioè dare una mano, dare un apporto fattivo. Ecco. Per esempio la quota è stata pagata da parte di Bibbiena? E' infatti quello che dicevamo appunto adesso con il dottor Micheli, che negli anni questo rimborso non è mai stato dato, infatti lo richiediamo, abbiamo appunto messo tra le cose da fare, di richiedere questi contributi che sono circa 400 euro all'anno, però insomma, dato che ci vengono contestati aumenti per esempio sulla protezione civile, almeno ci restituiscano i soldi sulla funzione della statistica, poi il resto contratteremo quello che c'è da discutere. Anche la ripartizione dell'IVA dei 50.000 non è mica detto che noi la dobbiamo sempre ripartire in quote, cioè noi potremmo decidere che la Bibbiena a Prato Vecchio o l'IVA un gliela diamo, perché non fanno parte dell'Unione, che la teniamo per noi, e magari utilizzarla per, cioè facciamo questi ragionamenti, perché? Se no sembra tutto dovuto, no? No, 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 se ci ha consentito, ti ricordi avevamo visto, approfondito anche questa cosa della protezione civile, in effetti il passaggio andava fatto sulla modifica dell'organizzazione, l'avevamo verificato anche col dottor Cocchierella poi, però questa cosa dei rifiuti verifichiamo. La parte della protezione civile c'è stato anche un aumento di oneri. Certo, certo. No, no, però insomma... L'emergenza che abbiamo avuto in questi anni non è uno scherzo. Dobbiamo cercare di, diciamo, verificare bene tutti i passaggi che facciamo per non essere, diciamo così, anche attaccabili su nessun fronte, se vogliamo anche, diciamo, anche dal punto di vista formale, nonostante effettivamente sia una rottura. Io la considero una cosa, diciamo, anche gravosa sui settori dell'Unione, no? Il fatto che si debbano fare delle relazioni sull'andamento delle convenzioni, delle varie cose, perché comunque poi nell'Unione a fare le cose ci stanno i nostri dipendenti, ci stiamo noi, eccetera. E quindi è facile star fuori e chiedere conto, cosa fate di qua, cosa fate di là. Ecco, su questa cosa qui, ad esempio, penso all'area interna o altre questioni, credo che sia, insomma, anche l'occasione di dire fermi. Ecco, qui si lavora, ma chi c'è dentro non è che sta lì a farsi fare la santa inquisizione da chi sta fuori, ecco, perché mi sembra che chi sta fuori comunque abbia avuto dei benefici fino a qui, per cui almeno questo rispetto formale ci vorrebbe. Per cui il percorso fatto su questa cosa della statistica è questo, ecco, perché è differenziato sui due aspetti, perché comunque, ecco, è importante rimarcare che l'Unione fa un lavoro importante e chi beneficia di servizi, anche non stando dentro, ma anche in convenzione, ha comunque dei benefici importanti dal punto di vista economico e quindi, insomma, l'obiettivo è cercare di arrivare a un punto in cui c'è un rispetto reciproco, perché il rispetto da parte nostra rispetto a chi prende i servizi c'è e ci aspettiamo anche da chi è fuori altrettanto rispetto. Sì, vorrei fare una domanda al segretario. Sì, prego. Il rispetto che se ne hanno scade la convenzione dei comuni con l'Unione Di quale convenzione, Pa? Il signore di quale convenzione? Il segretario, dal primo gennaio, si può essere, diciamo, come esempio, come sono tutti e altri due comuni che stanno fuori, vale a dire, se avviene anche il Prato Vecchio e tutti, diciamo, a quel punto lì siamo liberi di stare dentro con le, diciamo, varie convenzioni oppure no, di trattare di volta in volta. Ecco, vorrei capire questo. Sì, sì, sì. Le dico, signora. Cioè, quindi, se parla delle convenzioni, quelle riferite alle funzioni fondamentali che furono inserite nel, che furono poi, peraltro, previste nello Statuto dell'Unione. Quindi, le funzioni fondamentali, quelle previste dall'articolo 14,28, mi sembra, del VL78-2010. Quindi, la Polizia Locale, c'è tutte le funzioni associate nell'Unione per conto dei comuni. Lì, lo Statuto, letto, una disciplina abbastanza specifica. Cioè, lì si prevede una durata decorrente di dieci anni dalla Costituzione, dice lo Statuto. Per cui, questi dieci anni... Scade ora a fine dicembre. Esatto, però c'è una procedura prevista specificamente nello Statuto. Quindi, quello, ovviamente, va rispettato. Sul tema generale, cioè, quindi, sull'obbligatorietà o meno delle gestioni riferite alle funzioni fondamentali, sapete che è cambiato il quadro normativo rispetto a quello che era in vigore all'epoca, rispetto a quando fu redatto lo Statuto. Perché quando fu redatto lo Statuto, era in vigore appunto l'articolo 14, che poneva, diciamo, l'obbligatorietà delle gestioni associate, con una carenza, mi pare, che era tre funzioni all'anno per arrivare poi a tesorirle tutte quante, ed era previsto addirittura per legge il commissariamento perché l'ipotesi in cui i comuni non procedessero ad associare queste funzioni o nell'unione o in convenzione. Quindi il casentino la scelta fu quella di farle, di associarle a micro-unione dei comuni. Poi, nel frattempo, è entrata in vigore, c'è stata emanata una sentenza dalla Corte Costituzionale, mi sembra sia del 2017, se non ricordo male, che ha sostanzialmente attenuato questo obbligo perché ha previsto che ogni singola amministrazione, quindi comuni con meno di 5.000 abitanti e 3.000 sermontani, attualmente possono sostanzialmente fare una valutazione relativa alla convenienza o meno, io chiaramente la dico in termini, diciamo, semplificati, quindi una convenienza o meno rispetto alla scelta riferita alla gestione del servizio in associato, quindi sia in unione o in convenzione, e quindi nell'ipotesi in cui quelle amministrazioni dovessero ritenere quel servizio, diciamo, non conveniente per motivi che possono essere più vari, per motivi geografici, per motivi di distribuzione della popolazione, di risorse umane a disposizione, quindi di personale da conferire nei servizi, quindi per le motivazioni che le amministrazioni ritengono idonee, è possibile, diciamo, non fare la scelta di gestire in associato questi servizi. Quindi ne deriva che, questa è una riflessione fatta un po' così per rispondere appunto a una domanda, poi chiaramente andrebbe approfondita perché sono temi complessi, però se un'amministrazione, quindi un comune che sarebbe tenuto all'obbligo, oggi come oggi, dovesse ritenere che un determinato servizio non gestire in modalità associata, o con quel tipo di modalità associata, quindi l'unione, piuttosto che convenzione, non comporta, gestendo in associato, diciamo, dei benefici, dei vantaggi rispetto all'alternativa della gestione singola, può legittimamente scegliere di non gestire più in forma associata. E quindi di non proseguire nella gestione associata. Però, ripeto, questa è una tematica che è stata di fatto già analizzata quando chi all'epoca redassero lo statuto, diciamo, l'ha già tenuto presente, secondo me, nel momento in cui fu fatta la scelta di stabilire in dieci anni la durata della gestione associata. Cioè, evidentemente, già ci si prefigurava la possibilità che queste gestioni associate non rimanessero obbligatorie in eterno, perché, ripeto, all'epoca era previsto il commissariamento, mi ricordo, di riunioni in prefettura, non solo per, diciamo, per il Comune del Casentino, perché lavoravo, ma anche per il Comune del Bantano, dove venivano affrontate, diciamo, queste questioni con il viceprefetto, che all'epoca seguiva questi temi, proprio perché era previsto, dal punto di vista giuridico, il commissariamento dei comuni inarientienti. Quindi c'era, come dire, anche un po' un'assistenza tecnica da parte della Prefettura d'Arezzo che seguiva queste tematiche. Poi questa sentenza della Corte Costituzionale ha un po' rovesciato il piano del discorso, quindi, diciamo, è rimasta un'obbligatorietà che però è da declinare sostanzialmente in concreto rispetto alle singole situazioni, quindi ai singoli servizi di cui si va a discutere. Per cui c'è la possibilità, per non essere repetitivo, c'è oggi la possibilità giuridicamente di fare scelte diverse rispetto a quelle che furono fatte all'epoca, che in parte erano imposte. Tra l'altro voi sapete benissimo che non si è completato, poi alla fine, tutto il percorso della rigore gestione sociale, perché i servizi fondamentali sono quelli appunto che sono indicati all'articolo 14 del diale 78, ma quindi alcuni di quei servizi sono rimasti, diciamo, associati sulla carta. Se andate a prendere lo statuto, vedete che lo statuto vedete la possibilità che in fungo ulteriori servizi sarebbero stati conferiti all'Unione, per esempio c'è tutto il tema della gestione per esempio dell'ufficio ragioneria, quindi servizi finanziari, ma è il primo che mi viene in mente, dove era previsto che l'Unione avrebbe potuto svolgere ulteriori servizi, quindi questo ripeto rispetto alla data di approvazione dello statuto che è 2011, se non ricordo male, ma che poi non sono stati più conferiti in gestione associata proprio perché è caduta l'obbligatorietà assoluta, diciamo, della gestione sociale. Tant'è vero che alcuni servizi sono rimasti nei comuni, non sono stati conferiti tutti in gestione associata nell'Unione. Come invece lo statuto prevedeva inizialmente, perché era un percorso che era stato avviato appunto col diale 78 che è del 2010 e che quindi nel 2012, che poi nel 2011 vedeva già però alcune funzioni già conferite in associato. Per esempio i servizi sociali che erano stati associati ancora prima del diale 78 del 2010, erano funzioni che erano state, diciamo, nel 2010 sicuramente erano già associate nell'ex conti a Montana. Poi ci furono i ligni, gli urbani, poi furono passati l'ufficio tributi, l'ufficio personale, poi il servizio relativo all'informatica, quindi i servizi che sono passati gradualmente, alcuni invece non sono più passati, diciamo, in gestione effettiva, proprio perché di fatto è caduta questa obbligatorietà. Quindi è caduto pure quell'assillo che c'era ogni 31 dicembre, non so se ricordate, cioè alla fine dell'anno si trattava sempre di verificare se si era in reola con queste normative riferite ad obbligo di gestione sociale, perché c'era il rischio del commissaramento. E mi ricordo che addirittura un anno, non ricordo l'anno preciso, mi pare fosse il 2014-2015, in cui non era stato completato il trittico di funzioni che ne avevano segnate tre all'anno in gestione associata e per effetto di questa sentenza che entrò in vigore, fu approvata all'inizio febbraio-masso dell'anno successivo, si capì, come dire, con effetto retroattivo che si potevano mantenere quella situazione, diciamo, di mancato conferimento. Comunque, al di là di questo escursus che è pure un po' storico-normativo, oggi, diciamo, quello che ha cambiato, ripeto, è questo, che la Corte Costituzionale sostanzialmente non è che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 14-228, ma tecnicamente ne ha dato un'interpretazione costituzionalmente orientata, cioè ha detto, nel momento in cui i comuni sono enti autonomi dal punto di vista della Costituzione, i comuni sono soggetti costituzionali, sono enti previsti nella Costituzione, una normativa che ponesse un obbligo assoluto di gestire queste, questa è la motivazione della sentenza delle Corte Costituzionali. Questa normativa che metteva come obbligo assoluto, diciamo, quindi, a prescindere dalle situazioni concrete, effettive, quindi, anche diversificate, che c'è tra un po' un o l'altro, che ponesse un obbligo assoluto di gestire tutte le funzioni in associato, sarebbe una normativa incostituzionale, perché i comuni godono di autonomia dal punto di vista costituzionale. Quindi, per, diciamo, evitare di dichiarare l'incostituzionalità della norma dell'articolo 14 che stabilisce l'obbligo di gestione associata, ne ha dato un'interpretazione un attimino più elastica, cioè ha detto è costituzionale nei limiti in cui le amministrazioni comunque godono di una possibilità di scelta rispetto alla conferire o meno in gestione associata, scelta da farsi in relazione alle caratteristiche di ogni singola realtà territoriale. Questo è il concetto. Quindi, per questa ragione qui, oggi è possibile, diciamo, fare una scelta diversa rispetto a quelle che fa, cioè ogni amministrazione può fare una scelta diversa nel momento in cui cessano queste gestioni associate perché il quadro normativo è stato di fatto modificato da questa sentenza della Corte Costituzionale di cui sto parlando. Mi pare sia del 2016, 2017, insomma, c'era già qualche anno, sono già 4-5 anni. Quindi, nei corsi di 10 anni c'è da... si può fare una riflessione sul tema, diciamo, in generale delle gestioni associate. Credo che i 10 anni furono messi per i comuni di Castelfo Cognano e il comune di Poppi perché, essendo sopra 3.000 abitanti, loro potevano decidere se conferire o no alcune... No, è sempre che no. Mi sembra che i 10 anni sono previsti per tutti i comuni. Perché se ne vedete... Sì, però... No, gli altri erano obbligati allora, mentre Castelfo Cognano e Poppi invece potevano decidere se... Ah, sì? Se metterli in associato, no. Sì, sì, perché essendo comuni con più di 3.000 abitanti montani non avevano obbligati. Però lo statuto, diciamo, prevede 10 anni dalla Costituzione dell'Unione per questo tipo di soggetti servizi a prescindere dalla dimensione demografica. Può darsi che la ragione all'epoca fosse stata questa, cioè proprio perché non c'era un suo nome. C'era anche Bibbiena quando fu costituita c'era dentro anche Bibbiena e Prato Vecchio e Stia. Comunità Montana, quello. Nel 2013 quando fu costituita la... Poi... Era solo Stia, credo, San Paolo. Era solo Stia. Prato Vecchio e Bibbiena... C'era uscito Prato Vecchio e Prato Bibbiena. Non mi ha fatto parte dell'Unione. Praticamente non sono mai entrati nell'Unione che non era Comunità Montana che era obbligatorio ma era facoltativo. Mentre Stia... Stia è uscita quando hanno fatto la fusione che tra le cose che prevederono nel referendum era quello che sarebbe stato il nuovo comune a decidere se far parte o meno dell'Unione dei Comuni. Su questo segretario o poi insomma in caso di necessità ci farai assistenza. Ma comunque la metteria, ripeto, è disciplinata nello statuto. Tu tra l'altro sei anche esperto di Unioni dei Comuni, quindi... Eh sì, ne ho già seguita una... No, due. Due. Una in provincia di Roma e un'altra qui in provincia di Arezzo. Più piccolino ovviamente. Comunque, vedete, la procedura... Quindi, gli argomenti sono disciplinati e nello statuto interviene anche abbastanza compiuti. C'è un articolo che disciplina abbastanza bene queste casistiche, diciamo. Quindi anche le procedure... In automatico al 31-12 non succede nulla. Se un comune non mette in alto le procedure per... Esatto. Esatto. C'è una... Stando a memoria, mi pare che ci sia una list data da dare con un anticipo di... Certo anticipo, ora non mi ricordo bene quando... Sì, devono essere approvate nei consigli, nei consigli, devono essere approvate... In caso di necessità affronteremo ogni singolo... C'è l'ipotesi del recesso dal servizio e c'è l'ipotesi del recesso dall'unione, proprio l'uscita dall'unione. Di disciplina tutte e due i casi con delle procedure diverse, chiaramente è aggravata nel caso di recesso dall'unione e semplificata nel caso di recesso dal servizio. Comunque, di disciplinata nello statuto. Va bene, allora tu, avanti tutta. Allora, quindi... Mettiamo in votazione la convenzione, sì. In questa c'è l'immediata... Lo chiedo subito, c'è l'immediata eseguibilità? Ce l'hai ed è separata, sì, sì. C'è la votazione separata, quindi doppia votazione. Allora procedo con l'appello. Siete sempre tutti presenti, c'è presenti che credi prima, 18, quindi allora, c'è Riccardo? Avorevole. Barolo Claudio? Avorevole. Calvi Valentina? Avorevole. Cavallucci Paolo? Astenuto. Ceccherino Emanuele? Avorevole. Chiscia Alessia? Avorevole. Ciampelli Alberto? Astenuto. Duce Donora? Avorevole. Fabri Chiara? Avorevole. Federico Giovanni? Avorevole. Laurita Paolo? Non l'ho sentito, Laurita? Astenuto. Astenuto. Mucci Diziana? Avorevole. Pertichini Roberto? Avorevole. Ricci Lorenzo? Avorevole. Favorevole. Favorevole. E Febini Giampaolo? Avorevole. Per i metà di servibilità, cioè Riccardo? Vado via. Favorevole. Favorevole. Favorevole per i metà di servibilità. Stiamo guardando le metà di servibilità. Ok, Barolo Claudio? Favorevole. Calvi Valentina? Favorevole. Cavalucci Paolo? Favorevole. Ceccherini Emanuele? Favorevole. Chisci Alessia? Favorevole. Ciampelio Alberto? Favorevole. Lucero Nora? Favorevole. Fabri Chiara? Favorevole. Federico Giovanni? Favorevole. Laurita Paolo? Favorevole. Mucci Tiziana? Favorevole. Pertichini Roberto? Favorevole. Ricci Lorenzo? Favorevole. E Terini Giampaolo? Favorevole. Bene, quindi approvata con 12 voti favorevoli e 3 voti per estensione e con voti unanimi per la immediata seguitità. Prego, Presidente. Ok, adesso abbiamo interrogazioni e interpellanze. Non è pervenuto niente al protocollo dell'ente. Non so se ci sono cose da presentare direttamente stasera. Posso parlare? Ah, prego. Sì, allora, l'accendiamo un momentino nella conferenza del capigruppo riguardo le problematiche legate all'emergenza, urgenza, nel trasporto sanitario. La risposta ci è un po' arrivata dal 118, dalla direzione, dicendo che ci offrivano 500 viaggi in più nella parte sanitaria e quindi che ci davano più soldi se noi coprivamo i servizi. Quindi, chiaramente, è un parlare fra sordi, no? Perché noi siamo mancanti di mano, di mano d'opera, di persone che si possano prestare a questa opera e loro ci offrono i soldi. Vabbè, evidentemente è un dialogo che non si capisce. Fatto sta che anche la settimana prossima avremo problemi a coprire veramente i turni in emergenza con DBLSD e dal primo di gennaio ancora di più. Questo ha scopo informativo. Legato a questo, vorrei, se si ritiene importante, opportuno o meno, riproporre l'esistenza della commissione sanità che avevamo fatto in precedenza. Perché ad oggi, praticamente, i commissari che erano dentro, se non uno, non c'è rimasto quasi più nessuno. Per cui, se deve avere un senso e deve avere un'importanza anche di interlocuzione, via dargli le gambe. Io sono disponibile anche a rendere l'incarico, non ho nessun problema, quindi si può essere chiunque a avere un'incarico maggiore, un'importanza maggiore. Però, ecco, forse come interlocuzione sarebbe un sistema più agile per muoversi e per dare un'informazione più diretta ai sindaci, senza dover aspettare l'articolazione, la conferenza, dei capi gruppo. Magari si potrebbe solo usare come sistema informativo nei confronti dei sindaci, anche senza bisogno di aspettare la convocazione dei consigli dell'Unione. Solo questo, questo è uno spunto di riflessione. Lo offro a tutti e vediamo un momentino se per la prossima volta si intende ristrutturare questo strumento che avevamo messo a punto per capirci qualcosa di più, almeno a livello di sanità, sia a livello zonale che a livello ospedaliero. Io vorrei chiedere una cosa, Ciampelli, in merito a quello che hai detto sulla commissione. Innanzitutto non ho capito, non vorrei capire perché sono spariti tutti i motivi, perché sono spariti, non so. Seconda cosa, vorrei fare una battuta io un po', come diceva Andreotti, se non vuoi fare niente fai una commissione che sei sicuro che non si fa niente. Mi sa che questa è andata proprio nel segno che diceva Andreotti, insomma, che alla fine mi sembra che si è parlato sempre comunque del niente, come giustamente tu hai detto stasera a te. Io non vedo per quale motivo si debba riproporre una cosa mai morta, questa è morta e non ha più senso, credo, non so nemmeno le cose parlabili, le cose che hai parlato perché poi non si è mai saputo niente, l'unica cosa che si è saputo è che stasera hai detto che non esiste più la commissione, poi questa commissione perché non esiste più io non lo so, ma credo che saremo un po' che a saperlo perché non esiste più. Questo dimostra secondo me l'interesse anche da parte dei sindaci, sia del tema che del sistema, evidentemente non si è d'accordo che un commissario da Laura Corazzisi si è dimessa e quindi non fa parte più della commissione, un altro commissario, il Pancini, si è dimesso e quindi non fa parte della commissione, un altro commissario, Federico Giovanni, non aveva molto tempo per motivi di lavoro, anche stasera si è vista che è arrivato tardi e non poteva più partecipare, quindi siamo rimasti in due, però... Ah, si è rimasto te che ti dimetta, poi... Io se posso prenderei l'attimo la parola, io diciamo al primo o al secondo consiglio da me preseduto sono stato inserito in questa commissione perché mancava un uomo. Ok, io ve lo dissi subito che non era un tema che io potevo essere d'aiuto e poi diciamo che venne fuori Alberto anche quell'articolo sul giornale senza averci interpellato, tu scrivesti quello che hai voluto senza prenderci in considerazione e se permetti io non sono d'aiuto ma se permetti io non ne voglio far parte, capisci? No, no, c'è nessun problema, ma se non serve fatevela voi, cioè andate voi sindaci a sentire di cosa si parla. Io lo so e so tutto perché sono dentro questa situazione, ma se non serve io, anzi, ho tante altre cose da fare. A me l'interessava per avere un'informazione in più, ma se non serve io, quindi c'è no di cosa da fare nel volontariato, dentro il volontariato e anche dentro altre situazioni, per cui non c'è nessun problema. Io non voglio avere... Io non ho detto che non serve, ho detto che io non sono d'aiuto, poi è un tema che io non so affrontare, cioè non conosco, quindi... Molto tranquillo, fin dall'inizio dicesti che è molto chiaro, però mi è sembrato di capire che almeno al sindaco di Giusti della Verna non gli importa, non gli interessa, quindi... No, ma io non la ritengo la cosa... Allora, io quando le cose... Io te lo so chiaro, Alberto, quando le cose non producono nulla, secondo me non servono a nulla, perché per me è una cosa che non servono a nulla, serve per dire che uno fa il presidente, e vabbè, è finita la storia. Forse quello che ha detto Giovanni mi sembra che abbia un po' anche chiarito certi aspetti. Detto questo, per me, io personalmente come sindaco del Consiglio di Giusti della Verna non vedo la necessità di rimettere in piedi una cosa che ne ha starita nemmeno Puntelli. Tutto qui, ecco, io non è che mi interessa a altre cose. Questo che vuoi... Scusa un attimo. No, no, perché parlo a franchezza. Parlo a te, parlo a te, parlo a te, parlo a te, parlo a te. Sì, metto la franchezza perché non è interessante il tema proprio, evidentemente capisco, va bene, c'è problema. Noi come sindaci facciamo parte della conferenza dei sindaci anche sulla sanità, sì che abbiamo sedi, modi e opportunità per discutere e per confrontarsi sulle questioni che riguardano la sanità. come altre cose che stanno venendo avanti in quest'ultimo periodo, come si sa tutti, è stato ricostituito il distretto casentino, sì che noi abbiamo da lavorare lì, abbiamo da pensare anche come riorganizzare il tutto e su quale strada, quale indirizzo prendere o società della salute o dare tutto, diciamo, in convenzione con l'azienda. Io credo che le cose sono queste. Poi io, e tu do qui che se no poi diventa, io dimmi una questione che ha risolto questa commissione, me dice una, dice guarda sei risolta quel problema. Beh, io però non credo che ad oggi non mi risulta che abbia risolto un problema. La commissione faccio presente che non doveva risolvere i problemi, per volontà vostra, perché non aveva nessun potere esecutivo, di nessun tipo, giustamente perché doveva solo informare. Quindi era solo questo. Evidentemente non ha questa importanza, giustamente, magari allora facciamo così, che i sindaci informino più la popolazione. Aspetta Alberto, però, aspetta Alberto, ti ha sentito una campana sola? No, no, ho sentito, parla solo lui, ragazzi, io parlo nessuno. Se posso dire una cosa? Se posso dire qualcosa? Perché questo gruppo di lavoro, diciamo che non è solamente recente, quindi, perché io, se ben ricordo, era stato ricostituito dopo il 2019, ma era un gruppo di lavoro che già c'era nella passata legislatura. E comunque io vorrei ricordare alcune cose che comunque sono state fatte. Su tutte, anche la campagna di informazione e di promozione del volontariato, che comunque mi era sembrato un risultato interessante. Avevamo fatto un video, avevamo fatto tanta campagna promozionale sulle televisioni, di volantinaggio, manifesti per, insomma, stimolare la cittadinanza ad aderire alle organizzazioni di volontariato. Quindi proprio niente niente che non è neanche corretto, insomma, perché credo che comunque un tratto di collegamento anche con un mondo che può essere quello del volontariato, ma in generale, insomma, porre delle questioni. Se poi dopo nel tempo, come dire, è successo un po' che qualcuno ci sono state delle defezioni, poi dopo non c'è stata l'occasione e il modo di riintegrarla, o vuoi anche perché poi giustamente ognuno per le sue inclinazioni magari può essere o meno interessato o, diciamo, propenso a seguire alcune tematiche. Magari si potrebbe fare una riflessione in maniera molto tranquilla, se ci sono persone che potrebbero avere la volontà e il desiderio di dare una mano, collaborare su questi temi. Tra l'altro, se ben ricordo, insomma, anche nella passata legislatura, c'era un rapporto anche con io, mi occupavo sempre di politiche sociali, c'era un rapporto comunque anche frequente con l'assessore, si affrontavano anche altri tipi di questioni, si erano approfondite tante cose anche che servivano da informazione nei confronti dei consiglieri rispetto a un tema complesso che è quello delle politiche sociali. Quindi, questo mi sento di dirlo, ma perché comunque anche da vicino ho seguito i lavori di quella commissione che comunque via via aveva prodotto delle iniziative e degli stimoli. Magari può essere, ecco, possono i consiglieri tra di sé nei vari gruppi fanno la riflessione, se ci sono persone che possono avere la voglia e il desiderio di dare una mano, prestarsi su questo tema, un interesse e capire se c'è la volontà di farlo proseguire, cioè non deve essere un fatto che interessa a me, a me può anche non interessarmi. Detto questo, se abbiamo deciso di approvare e di dare seguito alla costituzione di questo gruppo, io posso anche dire che non mi interessa, ma detto questo poi il gruppo continua, la commissione lavora anche senza il placet, voglio dire, di mio o di altri, perché è una commissione consigliare, come ce ne possono essere altre quando vengono costituite. E comunque io ricordo che erano state fatte delle iniziative anche interessanti, appunto citavo questa campagna informativa che comunque secondo me fu significativa e fu una bella cosa anche di rapporti con le associazioni di volontariato, che penso sia ancora oggi ricordata positivamente anche dal mondo del volontariato di tutto il casentino. Ma soprattutto, Eleonora, permettimi di aggiungere che è un argomento in questo momento abbastanza delicato, perché siamo in un momento dove la pandemia ci ha portato a delle problematiche importanti. I volontari hanno svolto un ruolo determinante in ogni comune, perlomeno a Poppi abbiamo chiesto l'appoggio delle mesi ricordi e sono sempre state presenti. Sentire che queste qui hanno dei problemi e avranno delle grosse difficoltà a proseguire con i servizi è una cosa che ci preoccupa, in comune ne abbiamo già parlato. Quindi per quanto riguarda Poppi benvenga l'interesse e la voglia di alcuni consiglieri che vogliono impegnarsi in questo. dispiace, ovviamente, per motivi loro, alcuni si sono dimessi, ma se c'è, come hai detto te, qualcuno interessato all'argomento che può spendere del proprio tempo per aiutare nell'informazione, perché, come detto, la Commissione non è che può avere il potere di prendere delle decisioni, però può avere un ottimo e importante ruolo informativo che può dare un'informazione più rapida e più immediata ai sindaci che hanno tante cose da fare e se hanno un braccio all'interno dei volontari che può aiutarli a sbrigare determinate questioni, secondo me, perché no? Cioè, non vedo veramente nessuna controindicazione a questa cosa qua. Quindi, quanto riguarda Poppi, che aveva, per giusto Alberto, e anche Luciano Zaccini, nella precedente, diciamo, versione, è favorevole. L'importante è che magari chi si fa avanti lo faccia. e poi magari, ecco, non si arriva il numero, perché mi ricordo Giovanni era stato coinvolto perché servivano quattro commissari, ecco, magari lo lasciamo a tre e, cioè, nel senso, voglio dire, cerchiamo di essere anche laici. Io comunque, se posso intervenire, credo che il problema Commissione, secondo me, sia il meno importante, perché forse non ci si sta accorgendo che il mondo di volontariato non ne può più, che sta scomparendo. Io le dà tanto che dico, ma l'ho detto in varie sedi, lo dico spesso anche con i miei volontari. Credo davvero che qui siamo arrivati un po' alla frutta. Il volontariato era una buona cosa quando interessava e non ci si accorge del ruolo che l'ha svolto e che può svolgere ancora. Quindi, io penso, invece, bisognerà metterci mano, bisognerà cominciare a risensibilizzare un po' la gente. L'ho detto più di una volta, lo ripeto, ci sono comuni come i nostri, parlo di quelli più marginali, no? Che senza il volontariato, credetemi, sarebbe una mezza tragedia, perché davvero qui tante cose le si pensano solo e esclusivamente a livello di volontariato, ripeto. E quindi bisognerà metterci mano su questo, perché poi ci si troverà problematiche molto importanti. E guardate che non è una cosa da sottovalutare, eh? Non è una cosa da sottovalutare. Da una vita che si dice, eh, il volontariato dovrebbe essere, come posso dire, dovrebbe essere sostenibile da chi? Da chi? Da chi? Il volontariato sarebbe bene che cominciasse un pochino a funzionare, ma la gente si sta, si invecchia, i giovani non si sensibilizzano, è un problema. secondo me è il tema meno importante, anche se comunque sono detto dagli ultimi, dagli ultimi interventi. Ecco, io invece penso che bisognerà cominciare a rimetterci un po' di occhio su questo problema, perché è un problema vero. Io credo invece che purtroppo la sanità sta chiedendo tempo di più all'emergenza. Sì, sì, sono d'accordo anche questo. È il rischio che sta correndo il volontario, qui si sta sottovalutando secondo me. Sono d'accordo. È normale che il volontario va a finire, eh? Io ve lo dico, va a finire. Io sono 28 anni che sono volontario, però adesso con le richieste che stanno facendo posso permettermi di rischiare il penale o il civile, eh? Ha detto questa cosa qui e non va sottovalutata, eh? Posso fare una proposta io? Scusa Paolo, eh? Prego. Volevo dire, dal momento in cui esiste questa commissione, secondo me, come ha detto il presidente, è importante rafforzarla, non sminuirla, perché può avere, può, può avere rapporto fra i sindaci e il volontariato. Sarebbe opportuno invece che fosse formata, e Alberto da presidente può coordinarla e trovarsi gli elementi, da persone che fanno parte già del volontariato, che possono accodarsi alle questioni meglio di persone che, come ha detto Giovanni, non si intendono di certe cose. Io, come lui, non mi intendo di certe cose. E pertanto, secondo me, è importante, come ha detto anche Paolo e Roberto nell'ultimo momento, per per vedere di stimolare il rapporto fra i sindaci e il volontariato, costituire una commissione che possa valorizzare quantomeno questo tipo di rapporto. Ecco, questa è una proposta che poi chiaramente deve essere valutata. Sì, scusate, secondo me si sta facendo un po' di confusione, perché questa qui, se non mi ricordo male, è una commissione di sanità, non mi sembra la rappresentanza delle misericordie. Cioè, allora, se ci interessa avere una commissione che si occupa di sanità a 360 gradi, la ricostituiamo e assolutamente non c'è stata una mancanza da parte dei sindaci, perché in questi anni che io sono sindaco e che sono all'Unione dei Comuni, mai la commissione ha conferito con il consiglio. Ora non so se ha conferito con l'assessore al sociale, perché era l'Eleonora in questi due anni, quindi ora è la Valentina, quindi non lo so. Però ecco, anche il fatto che dopo le dimissioni dei componenti non sia stato posto il problema, in modo tale anche da poterla ricostituire, mi sembra anche che da parte della commissione c'è stato un attimino di una mancanza. In questi due anni, su che argomenti ha conferito al Consiglio questa commissione? All'assessore ha conferito domando, assolutamente non è una mancanza da parte dei sindaci questo. E ritengo, assolutamente questo non vuol dire che a sindaci non gli interessa le questioni che riguardano il sociale, anzi, forse sono la cosa più importante di cui ci dobbiamo occupare, quindi questo è importante. E assolutamente, io lo sapete, ho grandissima stima di Alberto, come di Paolo, come di Roberto Pertichini, che fanno questa opera di volontariato importantissima e ci hanno posto i loro problemi nelle varie conferenze dei sindaci, però credo che, insomma, con la commissione sì, una parte di quello che si deve occupare la commissione al volontariato, ma secondo me la commissione si deve occupare di ospedale, si deve occupare di tante questioni che riguardano il sociale, a 360 gradi. Io pensavo che dovesse funzionare così la commissione, ecco, e che poi riferisse il Consiglio. Però prima di stasera non era mai stato posto nessun problema dal punto di vista sanitario da parte della commissione. tra l'altro, l'unico componente che è rimasto è quello del nostro gruppo, della Tiziana Mucci, gli altri si sono defilati tutti, quindi, ecco, questo volevo dire. Cioè, quindi se la riteniamo importante, ricostituiamola e cerchiamo di farla funzionare, insomma. Allora io... Mi sembra, Alberto mi sembra altamente qualificato che fa questa cosa, quindi diamogli le gambe facciamola lavorare, insomma. Valentina. Sono d'accordo con il che ti ha detto Emanuele, eh. Sono d'accordo, ti ha fatto bene a puntualizzare. Anch'io ho sbagliato, non ho... Mi volevo mettere solo al centro il tema di volontariato, ma... Però ti ha fatto bene a... a dire questa cosa. Quando ho detto che la commissione, poi, secondo me, non era la cosa più importante, però anche le ultime parole che ti ha detto, secondo me, sono veritiere. E Alberto comunque si è sempre fatto promotore e portatore di questa cosa, quindi ritengo anche io che se uno ritiene giusto rimetterla su, perché no. Io ho sbagliato a mischiare le cose, io volevo solamente rimettere in moto, in cervello della gente, l'importanza di volontariato che sta scomparendo. Sta scomparendo davvero, eh. Nei nostri posti. Non l'è piano, l'è diverso. Nelle città forse l'è diverso. Bisognerebbe stare qui un'ora a parlare il perché e il per come. Però, ecco, no, mi scuso di aver mischiato le cose. Sono d'accordo con quello che ti ha detto, comunque. Io vorrei chiarire una cosa con Ciampelli. Non so se ho capito male. Lui mi sembra che la, diciamo, la situazione della commissione che, insomma, si sta trovando come si sta trovando, mi sembra che la colpa la dia a sindaci. Io non mi sento in colpa di nulla. Ecco, questo voglio essere chiaro e preciso. Ecco, se poi aveva, o Ciampelli avevano i problemi, li dovevano porre. Infatti tanti consigli, che basta una volta dire quali erano le problematiche. E faccio un esempio. Se è dimesso quel consigliere, se è dimesso quell'altro, nessuno si è posto il problema, nemmeno i gruppi, da dove pervenivano questi consiglieri, di rimpiazzare, perché facevano, perché se è in un comune, se dimette il consigliere, subentra subito quello dopo, come è successo all'Unione dei Comuni. Ecco, io credo che colpa c'è. Io non mi sento in colpa di nulla. Se non ha funzionato, e secondo me, se continua così, per me non vedo la necessità di tenerla in piedi. O uno fa un cambiamento radicale, nel tutti i sensi, va bene? Giustamente, credo che l'intervento che ha fatto Giovanni, mi sembra che sia stato molto calzante, ecco, anche nei confronti di tutta la Commissione. Io credo questo. Io sì che, per essere chiaro, per me la cosa può essere anche finita qui, ma comunque, se uno vuole pensare a una Commissione, credo che debba fare un discorso nuovo, radicalmente nuovo, da tutti i punti di vista. Anch'io, anch'io, volevo, Gian Paolo, non credo che Alberto volesse dare la colpa a qualcuno, nessuno credo che voglia dare la colpa a qualcuno. Io credo che, credo, scusami Gian Paolo, credo semplicemente che come è nata è nata male, da quando ci sono io, poi quello che è successo prima non lo so. Quindi, quello che ha detto anche Elonora e tutti gli altri, io condivido in pieno, quindi, secondo me, è da riformare, riformare con persone che abbiano la volontà, perché altrimenti si ritornerà tra un anno a riparlare della questione in questo modo. Quindi, ecco, appoggio quello che hanno detto gli altri. Nessuno colpevolizza, nessuno, ecco. Io, perché, per chiudo, dicevo, io non personalizzo male cose. Io guardo i fatti, gli altri, vedo le cose come vanno e come non vanno. In questo caso, come non vanno, come non sono andate. Punto. Poi, dopo, io non voglio nessun'altra, diciamo, giustificazione di quello, di quell'altro, quello si è dimesso, quanto si è dimesso. Io faccio il sindaco, se mi si dimette i consiglieri, e mi devo farne il carico io, sicché anche il presidente, se via via che perdeva i pezzetti, doveva dire, ragazzi, fermi un attimo, io sono rimasto solo, vi lascio anch'io la presidenza e tutto, un po', se volete fare la commissione, rimettetevi sotto e ricostruite una commissione nuova. Questo è il fatto. Io ricostruire una commissione intorno a Ciampelli, ve lo credo che sia solo un modo sbagliato di ridare il vigore a una cosa che potrebbe anche, se questo è possibile, funzionare. Tutto qui. Valentina, volevi intervenire? Sì, molto velocemente. Io faccio mio l'intervento di Emanuele, perché ora dire, forse non lo so Alberto, tu sai che nei tuoi confronti c'ho stima e rispetto e tanti anni che collaboriamo, ma ora dire ai sindaci non gliene è fregato niente, è venuto meno i componenti, non gliene è fregato niente, non mi sembra un'espressione corretta, perdonami. Io mi assumo le mie responsabilità, probabilmente non me ne ero così resa conto che ne fossero venuti a mancare. Mi ricordo di Pancini che si è dimesso, lui mi ricordo che faceva parte. Probabilmente non c'è stata tanta comunicazione tra la commissione, o vuoi con i sindaci, vuoi con il consiglio, vuoi con l'assessore di riferimento, perché sinceramente mi riporta quanto detto Emanuele, e vista l'ora non voglio ripetere quello. Io credo che sia importante la commissione, ora dire che è sindaci, non importa il sociale e la sanità, mi sembra veramente una cosa abnorme, proprio una cosa spropositata, però io non detto questo, condivido anche quello che ho detto da Ricci, cioè ricostituiamola questa commissione. Purtroppo se ci sono stati, se è stata nominata con persone che hanno dato la disponibilità, perché magari in quel momento non riuscivamo a trovare altri componenti, riproviamo se c'è qualcuno che può dedicare un po' di tempo, un po' delle loro competenze, proviamo a ricostituirla, ma non diciamo, ti prego Alberto, che è sindaci e non gli ne ha fregato niente, perché veramente, mi offendo, e lo dico in un consiglio dell'Unione, mi offendo. Allora condividi quello che ho detto io, alla fine. Non ho detto questo, dunque, il sindaco Tellini ha personalizzato, sulla mia persona, la mancanza assoluta della commissione. No, Premo, Premo, ti ha attaccato sindaci, Premo, ti ha attaccato sindaci, caro Sanpelli, io ho solo detto, non te lo scordare quello che hai detto all'inizio. No, 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 io ho solo detto che hai sindaci, io ho solo detto, ma con me non funziona, capito? Io non sono abituato a girare tutte le stanze, che non posso pensare, io ho solo un comune dove c'è, che è Chiusi della Verna, e ogni volta che mi sono presentato, da 2020, sono 22 anni, quasi 23, e sono sempre qui. Chiaro? Preciso? Punto. Io non ho bisogno, non sono giocato che ho bisogno della carica per muovermi. No, no, allora, te hai attaccato, te l'ha detto la Valentina, se tu vuoi, te lo ripeto io, hai attaccato i sindaci per lavoro che non sai fare te, che non hai fatto te, e che non c'è stato in grado di tenere insieme la commissione, e non c'è stato in grado di farci presente, quando la commissione perdeva i pezzi, hai perso la corazzese, ti sei dimessa, hai perso il pancini, e tutti quelli che, mi ricordo, vi chiedo di... Posso, dato che, dato che le presiedo il consiglio, vi chiedo di... sincero perché non so un'iposita che ora dice una cosa e domani va a dire un'altra, magari con qualche altro sindaco e dice, no, ma anche io la penso con i testi tu, Sampelli. Si può abbassare... poi tu sai che io ho rispetto per tutte le persone, ma su questo io non condivido il modo in cui ha funzionato, hai portato avanti la commissione. Punto. Non ti è mai importato, Giampaolo, non mi hai mai chiesto niente, Giampaolo, non mi hai mai chiesto niente, non ti hai mai chiesto niente, se si può posso scusate, dato che... perché alla fine qui, capito, è sempre rumba, ma vabbè, poi dopo magari mi date l'amministrazione del consesso, perché non è che si può fare i canai così. Se si deve lasciare si lascia. Non si deve lasciare Giampaolo, però non esasperiamo toni su cose che non meritano l'esasperazione, dei toni e commenti che sono anche per di più, mi pare. Detto questo, questa è la mia opinione, la posso dire la mia opinione. Te hai detto quel che pensavi, è un quarto d'ora che sbraiti quel che pensavi, fammelo dire anche a me. Penso che certi toni a un certo punto si debbano smorzare, perché ci sono argomenti che sono, voglio dire, siamo qui per cercare di lavorare, questa commissione dovrebbe lavorare per dare un contributo, un apporto all'ente Unione, ai sindaci dell'Unione, quindi cerchiamo di capire come si può fare, a farla lavorare, senza denigrare e svilire le persone che si mettono a disposizione, perché penso che sia questa la cosa... Io ho detto che non ho nessuna responsabilità, c'è la commissione che non ha funzionato, cosa che ha detto Ciappelli, che la commissione non ha funzionato, perché hai sindaci che non mi interessano. Allora, io non voglio proseguire un'altro quarto d'ora, ci sta da fare ancora giù. Io proporrei, fattivamente, fattivamente proporrei di fare una riflessione, ciascuno nel proprio gruppo, se ci sono persone che hanno la disponibilità, la voglia, la volontà di lavorare su questo fronte, che non è solamente il fronte del volontariato, ma che comunque, è anche un trade union, un collegamento con il mondo del volontariato, ma anche su tante altre questioni, come nel tempo, sono state affrontate. Io voglio ricordare che questi ultimi due anni non sono stati due anni normali, sono stati due anni in cui, praticamente, se non si è sospesa l'attività amministrativa, ci siamo andati molto vicino, quindi non mi meraviglia che, come dire, la commissione non abbia fatto poche fiamme e fiaccole, perché, come dire, chi, ad esempio, per esempio, stava nel volontariato, aveva tanti altri pensieri e tante altre questioni di preoccuparsi, chi era nell'amministrazione, ci sono stati anche momenti di emergenza, non banali, che credo che forse non ci siamo qualcuno, non si è nemmeno accorto se qualcuno sarà dimesso o meno, quindi credo che su questo si sta riacquistando un pochino di percorso e di normalità, quindi cerchiamo, alla luce anche di questo, di vedere se si può provare a lavorare, a far lavorare questa commissione, perché io penso che, comunque, se ci sono persone che stanno da fare su un argomento, non credo che siano da svilire o da non riconoscere l'impegno e la volontà di farlo. Questa commissione, tra l'altro, è stata a suo tempo approvata, la costituzione di questa commissione, quindi, siccome è stata approvata nella passata legislatura, adesso, nel caso, dovremmo sopprimerla, per cui, se c'è, c'è la volontà di farla funzionare, se ci sono persone che hanno la volontà di farlo, lo diranno, prossimo consiglio, se ne può riparlare, Emanuele, non ti si sente? Non so se parli con noi o... Emanuele, non ti si sente? Parlavi con noi? Non parlava con noi. Quindi, io penso che la prossima volta potremmo, non so se nel prossimo consiglio immediatamente o quello dopo, se c'è la volontà di proseguire su questo fronte, se ci sono delle disponibilità, di renderle manifeste in maniera tranquilla, come è stato fatto in quest'ultima parte del consiglio, mi sembra si è parlato in maniera, seppur con qualche tono alto, però in maniera tranquilla, e quindi, se ci sono persone che hanno voglia e la disponibilità di mettersi a disposizione, se poi, ovviamente, non ci sono, la commissione farà festa, però, ecco, credo che sia comunque un'occasione di condivisione di questioni che sono importanti e che penso che nel tempo o comunque qualcosina, io dico sempre che seppur poco, anche poco, è sempre importante, quindi, credo che ci sia la necessità comunque di tenere l'attenzione su queste questioni. Quindi, Alberto, se ci possiamo lasciare così, visto che hai sollevato tu la questione, magari, facciamo, ognuno faccia dei passaggi nel proprio gruppo o se ci sono anche dei sindaci stessi che vogliono far parte della commissione, perché comunque i sindaci sono consiglieri facenti parte del consiglio, così tanto quanto i consiglieri dei comuni, quindi, se ci sono queste disponibilità e poi si ricostituisce la commissione, magari valutiamo, dato che i gruppi erano aumentati, cerchiamo magari di dare un numero alla commissione, indipendentemente dai gruppi, che magari rende anche più agevole poterla costituire, se magari c'è 4-5 gruppi, lo facciamo, istituiamo in numero di 3 o 4 componenti, al di là delle questioni della rappresentanza dei gruppi, perché magari si va anche ad attingere in gruppi, dove io penso al Dini, che fa parte del gruppo misto, che è da solo, non so se Dini magari avrà voglia di fare parte della commissione, nello specifico, per cui facciamoci una riflessione, senza senza incartarci tanto sulle questioni numeriche e proviamo a ricostituire la commissione e vediamo se ci sono le questioni su cui lavorare, tanto voglio dire, non è che se loro fanno la commissione ci sottrae l'aria o il lavoro o l'attività o qualche risorsa a noi, ecco, la commissione lavora da sé e poi se produce qualcosa e pone delle questioni o collabora nella risoluzione sarà tutto trovato, dico io, no, perché poi penso che possiamo provare a procedere in questo modo. Io d'accordo, nessun problema. Concordo. Io sono d'accordo. Facciamo un giro di interessamenti poi ai prossimi consigli. Una domanda, scusate, ma la commissione è solo su questo tema qui oppure si possono anche fare commissioni su altre questioni. Se ci sono argomenti di interesse particolare si valuta come è stato fatto per questa commissione a suo tempo, magari si può anche verificare il regolamento di funzionamento se ci sono degli aspetti che regolamentano anche questo, magari ci sono già delle commissioni che possono essere convocate, si può fare questa valutazione, cioè ci sono questioni di interesse particolare, voglio dire, come dicevo prima, diciamo che il lavoro è sempre tutto trovato, ecco, chi si dà da fare per un argomento, per porre delle questioni e allargare la platea delle persone che si interessano e che contribuiscono alla risoluzione dei problemi è sempre, penso, e benvenuto. Ok, grazie. Ok, non penso ci siano emozioni e ordini del giorno e quindi io vi chiederei. Ora, mi dispiace l'ora però no, ritornando un po' alla questione la volevo fare prima ma poi mi ha anticipato Alberto, ritornando un po' alla questione della scadenza, diciamo, dell'obbligo sull'unione, sulle funzioni, eccetera, no, vorrei capire un attimino, se mi ricordo che a marzo facemmo, rinnovammo quella convenzione con Prato Vecchio Stia gli abbiamo dato, gli abbiamo fatto un trattamento abbastanza favorevole per quanto riguarda il sociale gli abbiamo fatto se non mi ricordo male 50.000 euro di sconto, eccetera, e lì un po' si fece anche per vedere un attimino se loro erano diciamo propensi a entrare dentro l'unione cioè si sa qualcosa da fronte loro oppure loro visto che ora si farà diciamo con il nuovo distretto si farà o la società della salute o la convenzione con l'ASL loro non sono più interessati a entrare oppure loro pensano di entrare lo stesso nonostante il sociale esca dall'unione fondamentalmente. Sì, allora su questo non so poi alcuni di voi fanno cioè in realtà tutti noi facciamo parte della commissione montagna del del lanci anche se spesso non si partecipa ma in quel in quell'ambito lì avevamo fatto sia comprato vecchio sia dei ragionamenti su quali erano le esigenze delle modifiche statutarie ti ricordi comunque era stato fatto un passaggio su questo tutte queste richieste erano state poi messe a sistema in un documento di richieste fatte attraverso l'anci toscana alla regione perché lì ci sono da modificare tutta una serie di aspetti ovviamente tutti aspetti perfettamente diciamo accettabili anche dai comuni più piccoli non è che c'erano richieste tra l'altro un documento che tutti voi dovete avere perché la commissione montagna lo invia a tutti i comuni montani quindi su questo sono stati promossi due incontri con gli assessori Saccardi e Scioffo ponendo proprio l'attenzione su queste questioni che erano diciamo erano anche dirimenti per l'ingresso dei comuni nelle unioni sul fronte del sociale c'è la volontà di rinnovare la convenzione anche in vista eventualmente del distretto o della società della salute insomma del ritorno al distretto sull'aspetto dell'ingresso nell'unione sono stati poste tutte queste questioni all'attenzione della regione sono state poste le questioni anche all'attenzione delle commissioni affari istituzionali e aree interne anche in un'audizione che è stata fatta a cui hanno partecipato il presidente dell'unione non lo specifico per noi ovviamente ho partecipato io la regione si è fatta carico di tutte queste nostre richieste inizialmente non ci sono sembrati molto propensi a fare queste modifiche che noi richiedevamo ovviamente insieme in particolare col comune di Plato Vecchio Stia ma insomma ne sono a conoscenza anche i nostri rappresentanti in regione di quali sono le richieste che facciamo quindi niente abbiamo richiesto nuovamente un incontro agli assessori perché vogliamo cercare di capire se queste modifiche verranno fatte o meno perché mi pare che siano determinanti per fare questo tipo di ragionamento ovviamente nell'accordo nel rinnovo che andremo a fare della convenzione sarà una convenzione che ovviamente non potrà avere gli stessi contenuti di quella alcune cose dovranno essere rimodulate nell'accordo del sociale poi su quello ne potremmo discorrere come già abbiamo avuto occasione perché se andiamo a vedere nel dettaglio ogni singola voce e ogni singola voce proporzionata poi con gli importi perché vengono fatte anche le osservazioni 50.000 euro non 50.000 euro se facciamo le dovute proporzioni con le risorse conferite da ciascun comune capiamo bene che quei 50.000 euro di Prato Vecchio Stia sono ben poca cosa sarebbero ben poca cosa parametrati alle nostre alle nostre singole risorse che conferiamo per il tema del sociale ovviamente lì c'erano anche dei contenuti che riguardavano l'annualità specifica del 2021 che ovviamente non potranno essere replicati nel 2022 per il rinnovo della convenzione sulla volontà o meno di entrare ecco questo documento cioè noi sono diversi mesi che con l'Anci Toscana lavoriamo in maniera molto serrata su queste richieste da fare alla regione perché appunto vi ricordate bene che anche su un piano politico erano state opposte delle questioni sullo statuto eccetera che erano determinanti per il comune di Prato Vecchio Stia se ne è fatto carico anche la regione la commissione affari istituzionali e la commissione aree interne anche il consiglio regionale al corrente delle richieste che abbiamo fatto i nostri rappresentanti politici lo stesso e quindi speriamo voglio dire non è che è determinante il primo di gennaio o il 20 di gennaio ma permettimi in commento scusa Lenore però cioè allora a me di cosa deciderà la regione credo che ci interessa al giusto cioè allora questa gente è interessata a entrare nell'unione o no noi abbiamo passato quello sconto per te sono pochi 50.000 euro per me sono tanti no io ti ho detto che sono ne pagamo 420 sono andati a pagare 370 quindi mi sembra che gli si è fatto un bello sconto va bene questa gente continua a usufruire dell'unione ci sputa sopra ok e noi si continua e noi si continua a diciamo a creare il nido per fargli entrare ma se vogliamo si può fare anche su questo si può chiudere la porta io credo che la porta uno spiraio sia sempre ben lasciato aperto se la regione se la regione fa queste modifiche e non dà più alibi e questo l'ho anche avuto modo di dire non più tardi l'hai sentito davanti all'Anci Toscana perché di quel di questo documento se ne sta occupando l'Anci è quello che gli abbiamo detto in maniera chiara ma non credo che sia problema del documento non credo che sia per secondo però faccio un esempio prima si parlava del dei rifiuti dell'IVA dei rifiuti con BPM va bene c'è altre questioni tipo la CUC non si fa la CUC praticamente a pari condizioni con i comuni che sono fuori dall'Unione praticamente ma anche fuori mica usufruiscono della CUC nostra no ma faccio un esempio l'Unione del Prato Magno o il Parco o Perginella Terina cioè loro usufruiscono dei nostri servizi a parità di trattamento lì possiamo modificare il regolamento d'accesso alla CUC ma lì abbiamo Parco Unione del Prato Magno Comune di Perginella Terina basta non credo che Bibiene usufruiscano Poppi non credo che Poppi fa parte tra l'altro questo l'affronteremo anche questo ma non credo che Prato Veggio non credo che Prato Veggio e Bibiene usufruiscano per esempio della CUC sì no però che ne so qualcuno usa il SUAP cioè bisogna un attimino il SUAP lo pagano tutti profumatamente quelli che sono fuori se fai la verifica delle risorse sì però a parità di trattamento credo più o meno nel senso il trattamento il servizio se è in convenzione è lo stesso ci sono delle maggiorazioni il SUAP se vai a guardare le risorse che paga il Comune di Capolona sono risorse significative noi non sappiamo niente perché c'ha più attività produttive ma non è che il discorso è questo qui secondo me bisogna un attimino fermarsi e capire questa gente cosa vuole fare da grandi perché non si può continuare così porgendo sempre l'altra guancia e questi cioè alla fine ti dico la verità mi sento anche un po' preso in giro perché mi sei fatto lo sconto ti dice tanto questi ora ci fanno lo sconto poi si va con la società della salute e chi si è visto si è visto tanto si sono presi lo sconto lo sconto a Prato Vecchio non è legato a Prato Vecchio che entra all'Unione lo sconto lì si è fatto una trattativa per cercare di far tenere cioè loro se uscivano dal servizio del sociale erano negatombe forse e se usciva ci creava dei problemi pazzeschi quindi siamo andati a trattare si è trovato un accordo e non c'era non era mai stato detto che Prato Vecchio entrava nell'Unione perché gli so che ha lo sconto sul sociale la motivazione della trattativa era ben altra ovvero la loro presenza nella convenzione del sociale che ripeto se uscivano ci avrebbero fatto dei problemi è stato detto credo che sia anche verbale abbiamo detto che abbiamo aperto un ragionamento e che penso che sia stato portato anche avanti perché tutto tutto quel lavoro che è stato fatto poi se vogliamo decidere se vogliamo decidere è una passione centrale che bisogna un attimino puntare i piedi non si può essere sempre consenzienti questi ci trattano in questo modo ora basta si è detto prima sulla convenzione della statistica su rifiuti sulle cose bisogna un attimino puntare i piedi e chi è dentro e garantisce lo stipendio alle persone che lavorano nell'Unione un attimino abbia un trattamento di riguardo e invece qui è il trattamento di riguardo e se fa quelli che stanno fuori siamo a sto livello qui quindi questo non è propriamente corretto e se vuoi possiamo metterci a fare un'analisi di tutte le questioni e vedremo che non è esattamente come stai dicendo perché noi non abbiamo è una sensazione ma è una sensazione che se vogliamo possiamo metterci a analizzare la funzione per funzione e vedremo che non è in questo modo questo si può tranquillamente fare credo possiamo farla anche con l'ufficio di ragioneria funzione per funzione credo che tu ogni singola funzione la conosca bene non è esattamente in questi termini perché ci sono funzioni che noi non paghiamo per niente e che invece vengono pagate dai comuni che sono fuori sul tema del sociale il suo app per esempio mi sembra che dai comuni fuori e pagano profumatamente i comuni che non fanno parte dell'unione hanno un aggravio di tanti su tanti aspetti comunque lo possiamo guardare tranquillamente a me non mi sembra che noi si pagano i servizi di Prato Vecchio stia Bibbiena se vogliamo possiamo entrare nel dettaglio in maniera particolare ma questo non è così assolutamente basta guardare le cifre che vengono conferite sul sociale tu mi dici giustamente che abbiamo avuto una riduzione che appunto ogni riduzione va parametrata perché tu fai l'ingegnere e i numeri si proporzionano 400 non può stare a 50 come 100 sta a 50 sarà proporzionato tutte le riduzioni eventuali o possibili come vengono incitate anche da altri sindaci saranno proporzionali poi a quanto viene conferito e se facciamo i conti su quanto conferisce il Comune di Prato Vecchio stia in particolare per il servizio del sociale nel merito possiamo andare a vedere e conferisce tante risorse e se andiamo anche lì nel merito a vedere in quale e in quante parti si tocca riguarda la riduzione vediamo che una larghissima parte è stata effettuata su una riduzione di servizi che il Comune si è fatto in maniera autonoma oltre la metà di quella cifra lì quindi questo penso che sia opportuno anche ribadirlo perché se no si sta a dire che si è fatto lo sconto lo sconto lo sconto ma lo sconto più della metà se lo sono fatti da soli detto questo se vogliamo improntare un ragionamento diverso sui rifiuti e quant'altro Emanuele si può fare le facce però questo è se vuoi lo guardiamo nel merito anche Riccardo conosce bene la questione la possiamo rivedere perfettamente non è un problema detto questo se vogliamo rivedere i rapporti con i comuni fuori che nel tempo sono stati instaurati in quei termini non da me non da te probabilmente da chi c'era ancora prima perché sono tutte convenzioni strutturate in una certa maniera per cui se vogliamo rivedere i rapporti come per carità va benissimo anche a me sono d'accordo vogliamo rivedere i rapporti vogliamo valutare questo tema dei rifiuti dell'IVA eccetera è una cosa interessante una cosa anzi che se è possibile farla rispetto all'abbattimento dell'IVA per esempio potrebbe essere una cosa utile da fare che sia nelle nostre prerogative farla perché no io sono d'accordo nel fare quest'operazione se ci è consentito dai rapporti che abbiamo e da come questi rapporti sono codificati con i comuni che sono fuori possiamo valutarlo occuparcene e vedere così come su altre questioni non è un problema sono d'accordo anch'io ma penso che qui siamo d'accordo tutti nel vedere se si può perfezionare perché giustamente uno aspetta temporeggia verifica fa i documenti fa le richieste alla regione tu dici le richieste non sono importanti per le fatte a regione sono richieste importanti sono sostanziali perché la legge 68 non la possiamo modificare noi noi possiamo fare delle modifiche statutare fin tanto nello spazio che ci è concesso dalla legge 68 e la legge 68 non ci concede tutti quegli spazi che noi di cui noi abbiamo bisogno per poter fare quelle modifiche che ci vengono anche richieste dai comuni che sono fuori detto questo l'abbiamo sollevato tu lo sai anche in serie di politiche questa questione delle modifiche che serve che sono necessario che è necessario fare ed è stato avallato ed è stato sostenuto anche da chi ci rappresenta il regione che c'è la necessità di fare questo famoso tagliando la legge 68 che ci consentirebbe di fare degli interventi anche al nostro statuto che potrebbero togliere qualunque alibi a chi è fuori e ha sempre detto io entrerei se e io entrerei ma con le modifiche fatte con le possibilità date all'interno della legge 68 chiaramente queste scuse non ci sarebbero più e allora vediamo giochiamo effettivamente a carte scoperte quindi su questo sul tema dei rifiuti ci possiamo lavorare verifichiamo se questo è una cosa che ci è consentita io volevo aggiungere una questione se possibile allacciandomi al discorso dei rifiuti già qualche mese fa avevo accennato questa cosa a Eleonora che anno scorso per puro caso mi sono recato alla discarica di Arezzo gestita sempre da Sei Toscana e ho scoperto che in base alla tipologia di rifiuto e alla quantità di rifiuto che viene smaltita dal dal residente poi a fine anno questo residente ha degli sconti degli sgravi fiscali sulla 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 bolletta di fine anno della nettezza quindi io chiedevo se anche cioè se secondo voi è possibile poter informarsi di questa cosa magari appunto riallacciandomi anche al discorso della commissione oppure comunque aprire un tavolo e cercare di capire se questa cosa potesse essere possibile anche qui in Casentino anche perché secondo me incentivando in questo modo il cittadino il cittadino fa più attenzione e quindi facciamo un doppio vantaggio sia un discorso economico che un discorso appunto di benessere del territorio facendo la appunto la come si dice la ora non mi viene il termine scusate tariffa puntuale esatto il problema è molto è un po' più complesso di come lo ponete perché si pone tutto un problema legato agli investimenti che devono essere fatti per riuscire a calcolare quella tariffa puntuale che ti dici quindi consisterebbe nel cambiare i cassonetti mettere tutta una tecnologia che l'operatore se è toscana dovrà presentare impianto industriale in questo senso e vedremo se riusciremo a perseguire la strada ma non è scontato Riccardo scusami non i cassonetti che sono in giro sto parlando della discarica delle tombe cioè tu ti presenti alla discarica c'è una pesa in base alla tipologia di rifiuto viene pesato questo rifiuto e poi in fondo all'anno viene fatto un calcolo per avere poi degli sgravi fiscali sulla nettezza questo qui rientra comunque sempre nell'operatività di se toscana così vedremo se nell'organo industriale si riesce a far rientrare una cosa del genere una operatività come dici te io questo non lo so ecco ho preso la palla al balzo ma credo che insomma inizierò ad informarmi sulla questione poi se qualcuno è interessato alla questione perché no insomma poi dopo questa tematica la segue il consigliere di strada come si chiama Stefano Tarani Stefano Tarani Stefano Tarani se ti vuoi mettere in collegamento con lui lui la segue come referente potrete potrete inserire questa tematica nei rifiuti che segue direttamente lui come rappresentante del casentino nell'assemblea che ci rappresenta perfetto perfetto grazie va bene se non c'è altro io chiuderei perché noi dobbiamo fare anche la giunta per più che altro per le modifiche al PEF conseguenti alle varie azioni grazie ci dobbiamo staccare decidiamo se ci stacchiamo rimaniamo collegati qui o se ci colleghiamo sulla giunta non lo so buonanotte a tutti ciao buonanotte 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 a tutti buonanotte a tutti cosa Lisa aspetta vi volevo dire che Francesco vi dovrebbe aver mandato due link distinti però io avevo anche scritto che se voleva eh la rimaniamo qui siamo noi vai perfetto l'unica cosa scusate stacco la registrazione aspettate un attimo sì perché sennò finisce nel pacchetto del consiglio aspettate che mi riuscisse basta